Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, colleghi, potrei cominciare con una constatazione che è stata molto sottolineata dalla stampa in questi giorni, e cioè che c'è stata e c'è una enorme confusione sotto il cielo governativo a proposito di immigrazione. Abbiamo visto e sentito quello che mai prima si era visto o era stato sentito. Abbiamo visto che uno dei partiti della coalizione, un partito la cui presenza al governo, si ha detto senza ironia, può definirsi storica non solo dissociarsi dal provvedimento, ma organizzare e portare avanti un sostanziale ostruzionismo contro quel provvedimento che, in aspra polemica diretta con i repubblicani, è parso essere sostenuto a un certo punto solo dal Partito Socialista. Ma all'interno del governo e dello stesso Partito Socialista abbiamo poi visto un ministro e sentito il ministro Conte, che ha detto a un dicastero tra i più importanti, e cioè al Ministero per le aree urbane, proprio dove il problema dell'immigrazione emerge con più gravità, proporre una quota predeterminata del 15% a favore degli immigrati nella realizzazione del piano case dei relativi 50 mila alloggi. Ma subito dopo un altro e più alto esponente socialista, il vicepresidente Martelli, lo ha smentito. Benché lo stesso Martelli avesse partecipato alla riunione con i sindaci delle maggiori città, dove la decisione era stata, come si può dire a questo punto, della telenovella che un po' se ne è originata, era stata decisa, abbozzata, discussa, comunque certamente presa in esame, ma non meno certamente esaminata, discusso, abbozzata, anche qui nella più totale confusione delle intenzioni e degli orientamenti. E mi sia consentito di aggiungere, andando solo per un attimo fuori tema, che se è a queste mani, se è a queste menti, a queste capacità decisionali che è affidata la realizzazione del piano casa, c'è da prevedere che quelle 50 mila case gli italiani non le vedranno mai, come d'altronde avviene ormai da anni con l'edilizia pubblica ferma e con migliaia di miliardi stanziati che diventano assolutamente, inspiegabilmente residui passivi, nonostante che vi sia fame crescente di abitazioni e benché anche nei piccoli centri ormai un appartamento infitto costi somme esorbitanti, cifre proibitive anche per una famiglia con due o tre redditi e figuriamoci per le altre, con monoreddito e bambini. Ma torniamo al tema degli immigrati, alla grande confusione nella quale ancora si va svolgendo questo dibattito. A smentire Martelli che aveva smentito Conte è sceso in campo addirittura il numero uno del PSI, l'onorevole Craxi, che con fulmine assortita qui nel transatlantico è sembrato all'improvviso recipire le critiche dei repubblicani, ma poco l'ero dopo Craxi ha fatto marcia indietro, ha smentito di aver smentito, ha contestato duramente chi gli aveva fatto notare il suo apprezzamento delle tesi del PRI e anzi ha definito l'opposizione repubblicana, virgolette, una provocazione e una umiliazione, chiuse virgolette, un atteggiamento mai visto prima negli annali della vita politica e parlamentare. Ma è stato lo stesso Craxi che tuttavia ha aggiunto, autocorreggendosi, che il decreto era comunque perfettibile, il che starebbe a significare se le parole hanno ancora un senso che esso è emendabile, il che era proprio quello che chiedevano i repubblicani quando dopo averlo approvato e ratificato nel Consiglio dei Ministri, dove pure sono in modo qualificato presenti, avevano cominciato da quel decreto a dissociarsi. Ancora nelle scorse ore però, parlando a Palermo, il Vice Presidente Martelli ha sostanzialmente escluso ogni possibilità di emendamento, di innovazione, di variazione. Ha difeso il decreto a spada tratta e anzi lo ha promosso al ruolo di battistrada di una nuova politica europea in materia di immigrazione, perché ha detto che questo decreto è il primo tentativo a livello europeo di avvicinare le legislazioni nazionali dei vari Paesi della Comunità, sottolineando con un atteggiamento deciso e chiaro di cui dobbiamo dare atto che si tratta di dare un'indicazione a tutta l'Europa comunitaria, dimenticando però che tutta l'Europa comunitaria è andata via via orientandosi verso una politica ben diversa, verso la politica del blocco delle immigrazioni, verso la politica dei visti, dei contingentamenti, verso quella che lo stesso Presidente francese Mitterrand ha definito come una vera e propria soglia di tollerabilità di questo fenomeno e i socialisti italiani dovrebbero pur sapere che questa non è la linea dell'accordo di Schengen fra Germania, Francia, Belgio, Olanda e Lussemburgo e che è dal 74 in poi che questa revisione, questo tentativo fermo di bloccare l'immigrazione illegale è stato posto in atto con molteplici misure e con una serie di nuove leggi, con la linea apertamente, decisamente propugnata dal PSI. L'Italia si pone invece controcorrente rispetto a tutta la comunità europea e quando anche adottassimo la paventata dall'onorevole Martelli e dai socialisti, politica delle quote e dei visti, l'Italia non sarebbe la prima a farla in Europa, sarebbe l'ultima a farla, perché è da tempo ormai che i nostri soci della comunità rimproverano l'Italia di essere la sola ad andare controcorrente e di insistere in una tesi alla quale comunque, ecco un altro punto importante che i socialisti hanno dimenticato, alla quale in ogni caso dovremmo rinunciare entro qualche mese, ancora prima della scadenza del dicembre 1992, quando avviandoci verso la libera circolazione delle persone all'interno del territorio comunitario, i nostri partner ci imporrebbero una normativa più restrittiva. A meno che i socialisti non pensino, ed è una tesi, che l'Italia da sola riesca a convincere gli altri 11 membri della CEA a cambiare la legislazione degli 11 Paesi, a rivedere norme che in taluni casi già funzionano da anni, a rovesciare tendenze e orientamenti che sono stati assunti dopo polemiche laceranti, anche e soprattutto all'interno della sinistra socialista e socialdemocratica, e dopo aver constatato nel proprio tessuto sociale di quanti guasti e di quali pesanti conseguenze fosse causa proprio l'atteggiamento che ora si vorrebbe applicare in Italia. La verità è che quei Paesi, tutti quei Paesi, hanno in vario modo e misura, ma univocamente, cambiato atteggiamento, perché, come è stato scritto a più riprese, si sono accorti di essere giunto quasi sull'orlo del baratro. Un baratro, la quichina, era costellata da ghetti metropolitani, dal degrado di tante città satellite, di tante periferie e anche di città nuove, sorte intorno ai centri maggiori, da scontri e disordini che hanno riempito le cronache in tante occasioni, da fenomeni di razzismo esplicito o stricciante, ma comunque diffuso anche nelle zone più povere o presso gli strati meno avvienti delle rispettive comunità nazionali. Ecco perché, e ci sembra di avanzare un'interpretazione corretta, un socialista come Mitterrand è arrivato ad insistere sulla soglia di tollerabilità o di tolleranza, il che significa appunto, dovrebbe significare appunto, anche per i socialisti italiani, stabilimento di quote e politica seria dei visti. Ma io non ho intenzione di insistere oltre sulla confusione che ha imperversato in campo governativo. Perché sono convinto, il più convinto di tutti, che questo è un dibattito per sua natura difficilissimo, che esso affronta un problema drammatico, un problema di enorme spessore e rilievo di fronte al quale nessuno credo può presentarsi con la facilità degli schemi precostituiti. Perché è problema umano e sociale tale, per sua natura, almeno io così la penso, da suscitare tormento nell'animo e nella intelligenza. Perché chiama in campo inevitabilmente non solo sociologia ed economia, ma anche storia e cultura, ma anche come vedremo radici e tradizioni. E comporta prospettive di lungo periodo e postula scelte che una volta effettuate non saranno facilmente reversibili e che peseranno a lungo, incideranno a lungo, sulla sorte delle future generazioni, sul tipo di vita e di società che ad esse lasceremo anche e soprattutto con queste scelte, anche e soprattutto con questa scelta. Io lo vedo, lo sento questo problema, di coscienza e di intelligenza insieme, di cultura e di civiltà nello stesso tempo, come il problema fondamentale di tutta l'Europa nei prossimi anni e mi sembra corretto e inevitabile situarlo laddove va posto, e cioè nel contesto del più generale problema del rapporto tra il Nord e il Sud del mondo. Già da qualche anno, superando alcune polemiche che mi hanno accompagnato e ci hanno accompagnato tutti noi del movimento sociale fino al congresso recentissimo di Rimini, vado sostenendo che al bipolarismo, al solo ed esclusivo ed assorbente rapporto Est-Ovest, si stava sostituendo, si sta sostituendo il rapporto tra il Nord e il Sud del mondo. Adesso il bipolarismo esce dalla storia contemporanea e dalla vita politica internazionale. Direi che ognuna delle sue superpotenze si allontana dal ruolo che aveva precedentemente personificato, riempito, enfatizzato ed affronta anche i suoi specifici problemi. Spesso problemi di natura interna che stanno emergendo in modo virulento soprattutto nella Russia di Gorbachev, ma che non mancano anche nella gestione sociale e civile degli Stati Uniti. E per me appare una sorta di rivelatore contrapunto quello che vede da un lato l'armata rossa impegnata nel Caucaso e nell'Asia musulmana, nell'Asia centrale e orientale, ma anche dall'altro le forze militari statunitensi cominciare un nuovo tipo di guerra contro i narcotafricanti, magari in attesa di essere impegnate a fronteggiare gli enormi fenomeni di delinquenza e di degrado che imperversano in molte aree metropolitane del loro paese. Comunque di bipolarismo ormai si parla sempre meno mentre emerge quel rapporto a quale mi riferivo prima, tra nord e sud, tra un nord industrializzato e magari già proiettato nel posto industriale e un sud sempre più preda della fame e del sottosviluppo, tra un nord sempre più spopolato, in piena crisi demografica e un sud estraripante di giovani, oltre che di problemi irrisolti e di una miseria sconvolgente e incontenibile. Ecco il primo punto che io vorrei fissare, anche per portare questo dibattito al suo più alto livello possibile. Un primo punto che attiene alla dimensioni quantitative del fenomeno di fronte al quale ci troviamo, dimensioni che non possiamo far finta di non vedere, che non possiamo ignorare. Eccole queste dimensioni, nell'area che più direttamente ci riguarda e che quasi ci investe, umanamente e socialmente, con la sua miseria e con la sua spinta demografica. La curva decrescente della natalità nell'Europa dei dodici nei prossimi trent'anni è questo il parere più volte espresso dal noto studioso italiano di demografia Antonio Golino, farà sì che la popolazione dell'intera comunità aumenterà di 7 milioni di persone, mentre i nove paesi che si affacciano sul Mediterraneo al sud cresceranno di circa 139 milioni. Altri dati che trovo sul Repubblica del 18 dicembre, sempre a commento di questo problema, nel 2013 l'area comunitaria e quella nordaficana più la Turchia avranno entrambi circa 310 milioni di abitanti. I dodici arriveranno a quel livello al termine di un processo di flessione demografica che comincerà nel decennio in corso e condurrà gli abitanti europei sotto i 300 milioni. Viceversa i paesi del sorpasso subiranno una nuova accelerazione che li porterà ad avvicinarsi a quota 350 milioni entro il 2020. E ancora, con l'affollamento e la povertà crescerà in modo proporzionale la forza lavoro delle nazioni in via di sviluppo e in modo meno che proporzionale la pressione migratoria verso l'Europa. Nel 2000, nei soli paesi del Nord Africa, la popolazione in età lavorativa, 15-64 anni, sarà di 106 milioni 626 persone. Nei successivi 25 anni ci sarà un incremento ulteriore di 70 milioni. C'è stato, onorevole Martelli, un incontro ad alto livello a Tunisi qualche tempo fa tra i Ministri del Lavoro e dal nostro Ministro del Lavoro dell'epoca, De Michelis, furono sottolineato appunto queste cifre e queste proiezioni statistiche. Ma c'è un'opera che fa testo ormai da tempo in materia, un volume curato, e citato mi sembra da un altro oratore negli scorsi giorni, dalla Fondazione Agnelli, che con quelle sue 540 pagine ricche di statistiche di ogni genere, ha inaugurato una magnifica collana intitolata al tema dell'abitare il pianeta. Nel primo volume, che si riferisce al futuro demografico, alle migrazioni e alle tensioni etniche, e che riguarda il mondo arabo, l'Italia e l'Europa, è esposto uno scenario al quale mi sembra strano che non si sia fatto riferimento durante questo dibattito. In base ai dati del 1987, che sono stati confermati da quelli dell'88 e sono andati peggiorando, a quanto sembra, nel 1989, ormai abbiamo in Italia meno di 600 mila lascite l'anno, con un tasso di fecondità dell'1,3 figli per donna, un tasso che è il più basso del mondo. Abbiamo quelli che i demografi definiscono un giovane, e cioè in età da 0 a 14 anni, un giovane ogni 5 persone. Abbiamo un ultra 65enne, per i demografi un anziano, ogni 8 persone, e presto 7 persone, e abbiamo un ultra 80enne ogni 40. Siamo alla crescita a zero, stiamo diventando una nazione vecchia. Andando avanti di questo passo, e mi riferisco alle analisi del libro della Fondazione Anghielli, comparse sul mondo l'11 settembre 1989, se la tendenza che ormai resiste da anni non muterà, è inevitabile leggere nel futuro, ovvero fra l'oggi e il 2020, un calo di popolazione in Italia di 13 milioni, e il rapporto tra mortalità e natalità salire sino a poco più di 3 a 1. Si dirà, è uno scenario lontano, da qui al 2000, 2010, 2020, ne potranno succedere di cose. È un errore gravissimo, cari colleghi, perché la demografia agisce ed opera secondo le leggi inesorabili di quelli che la storia storiografica di Les Arnal e tutto l'insegnamento delle Goff hanno definito i tempi lunghi, gli inesorabili tempi lunghi della storia più profonda dei popoli, alla quale attiene e si riconnette anche e soprattutto l'andamento demografico. Questo tipo di fenomeni, quando si stabilizzano, diventano difficilmente reversibili nei tempi brevi. E anche se adesso, all'improvviso, il numero delle nascite raddoppiasse in Italia, il che è evidentemente del tutto impossibile, le conseguenze di ciò che da anni sta accadendo si farebbero ugualmente sentire nei prossimi 20 o 30 anni. E allora, tornando all'opera della Fondazione Agnelli, abbiamo infatti che comunque già verso la fine degli anni 90 si avrebbero 2 milioni di ultra 65 anni in più rispetto ad oggi, di cui circa 500 mila ultra 80 anni. Avremo da 2 a 4 milioni di giovani in meno ed una relativa stazionarietà della popolazione lavorativa, che tuttavia perderà da 5 a 7 milioni di unità negli anni successivi. E si conclude, questa parte dell'analisi, con una considerazione. Si dice che l'ultimo fotogramma delle proiezioni al 2025, se confrontato con la realtà attuale, offre un quadro che è più sconvolgente di quello maturato negli ultimi 100 anni di storia demografica della popolazione italiana. D'altra parte si prevedeva che sulla base di una presenza di stranieri valutabile nel 1987 a 6-700 mila persone, e con un flusso annuale calcolabile in 100 mila unità, si sarebbe arrivati a 2 milioni di presenze entro il 2000. E invece le cifre che stanno emergendo in queste settimane ci dicono che quel traguardo del 2000 è praticamente dietro l'angolo, anche perché le analisi serie evidenziano un altro dato da non dimenticare. Quando si parla di percentuale di stranieri rispetto alla popolazione, ci si riferisce statisticamente al complesso della popolazione, e allora siamo al 3-4%. Ma se ci si limita, come si deve correttamente fare nelle analisi sociali della demografia, alle fasce di età direttamente confrontabili tra i 20 e i 35 anni, allora già siamo a circa il 10% della popolazione italiana. Talune conseguenze sono già in atto nel tessuto sociale e nelle stesse strutture portanti della nostra comunità nazionale. E sottolineo qui una notizia che stranamente è passata sotto silenzio, benché riguardi un settore a cui tutti dovremmo essere particolarmente sensibili. Il Centro Alti Studi Difesa dello Stato Maggiore, CASA, ha portato di recente a compimento uno studio in cui si mettono a confronto il calo demografico e le previsioni di riflutamento per le forze armate nel prossimo ventennio. Alle condizioni attuali, secondo l'attuale andamento demografico, già nel 1995 si arriverà a coprire solo l'81% delle necessità e al 2010, e cioè sulla base di quelli che nascono adesso e quindi inevitabilmente la percentuale scenderà al 65%. Si dovrà quindi cambiare tipo di forze armate, struttura di forze armate, modalità degli arruolamenti e livelli di professionalità, eccetera, eccetera. Perché diciamo queste cose? Perché le sottolineo queste cose? Perché questo è il nodo del dibattito, questa è la scelta di fronte alla quale ci troviamo per la prima volta nella storia d'Italia, di fronte ad un sud, ad un vecino mediterraneo dove è nato quel fenomeno demografico, la scelta dell'immigrazione senza controlli, senza remore, senza un minimo di programmazione, senza visti, senza contingenti o quote o comunque si vogliano definire questi strumenti porterà inevitabilmente ad un afflusso massiccio di immigrati che via via si faranno sentire, via via che si faranno sentire le conseguenze del nostro calo demografico e questo afflusso non potranno raggiungere in pochi anni i 4, 5, 6 milioni e forse anche più di presenze. E d'altronde questo è lo scenario al quale si trova confrontata tutta l'Europa dei dodici e ancora più vastamente l'Europa occidentale, accogliere altre decine di milioni di immigrati se vorremmo davvero imboccare questa strada e una volta imboccata percorrerla sino in fondo, sino alle sue estreme ma logiche conseguenze. Qualcuno potrebbe obiettare che a questo punto dell'intervento, che noi stiamo tentando di calare forzatamente nel dibattito una problematica che spazia ben oltre i contenuti di questo decreto, che in fondo si dice solo una sanatoria della situazione esistente. Ma non è così. Anzitutto le critiche al contenuto specifico di questo decreto le abbiamo mosse con puntualità e precisione da questi banchi. E tutti gli interventi che si sono succeduti la settimana scorsa, Berselle, Del Donno, Martinat, Parigi, Pellegatta, Staiti, Valenzise, Tassi, hanno evidenziato quali sono le nostre censure, le nostre osservazioni, le nostre contestazioni, norma dopo norma, articolo de un articolo. Ma attenzione, a questo tipo di interventi che vengono definiti appunto di sanatoria, bisogna fare attenzione, perché in ogni settore e su ogni versante sociale avviene sempre più spesso che essi non solo non sanano la situazione pregressa, che in questo caso significa anche il clamoroso fallimento di tante strutture dello Stato, incapaci di fronteggiare un afflusso illegale, clandestino, che diventara addirittura torrenziale l'anno scorso, un afflusso di quasi un milione di persone, impensabile, assurdo, in uno Stato che fosse appena appena e decentemente ordinato e funzionante, non solo non sanano, dicevo, la situazione precedente, ma innescano una spirale di comportamenti analoghi lungo la stessa linea di tendenza. E infatti questa non è la prima sanatoria, come è stato già ricordato in quest'Aula. Si affrontò il problema come è noto con la legge 943 del dicembre del 1986. Essa con l'articolo 16 concesse un termine che poi venne prorogato più volte, sempre nel tentativo di sanare le situazioni pregresse, sino a quello che sembrava la decisione definitiva adottata con la legge 16 marzo 1981, numero 81. Il termine ultimo venne prorogato al 30 settembre alla fine 1988 per la sanatoria, si disse, delle situazioni pregresse anteriori al 27 gennaio 1987. Ma nessuna legge ha funzionato secondo le previsioni, nessuna proroga ha risolto il problema, nessuna sanatoria lo ha eliminato. Subito dopo si sono formate, sono cresciute, si sono ingigantite nuove aree, nuove sacche di immigrazione, aree e sacche sempre più estese, sempre più dense e torbide di problemi umani, sociali e civili. E allora non deve venire il dubbio, almeno un dubbio, che questo tipo di interventi sulla immigrazione sono del tutto insufficiente, che essi configurano il rincorrere affannoso di un problema enorme con strumenti del tutto inadeguati. E che ci vuole, ci vorrebbe invece una risposta organica a questo problema, una risposta da costruirsi sulla base di una valutazione complessiva del fenomeno, che spazi sulle sue origini, che lo analizzi nelle sue dimensioni e nei suoi cantenuti, che non rifuga dall'affrontare serenamente, civilmente ma coraggiosamente in odi anche di fondo che esso veicola. Un'analisi che si spingesse sino all'approfondimento delle conseguenze alle quali si va incontro, dove ci si limiti soltanto a rincorrere periodicamente le ricadute, i flussi umani che esso provoca verso l'Italia, sanandoli uno dopo l'altro, senza mai avere una politica, senza capire verso dove si cammina, senza sapere a quale punto di compatibilità, a quale soglia di tolleranza ci si intende fermare, senza idee precise neanche sulla entità numerica del problema, né piani né pregarni e neanche uno straccio di soluzione razionale. Ma un concetto va precisato da parte mia, da parte nostra a questo punto, ed esso riguarda il motivo di fondo della nostra opposizione. Non è per razzismo che noi ci opponiamo, ma perché andando avanti di questo passo noi provocheremo l'afflusso massiccio di immigrati extracomunitari in Italia e allora ci troveremo di fronte ad un fenomeno enorme di sradicamento di quella gente dal loro contesto naturale. È strano che specie a sinistra, ma anche nell'area cattolica, non si guardino le cose da questo punto di vista. L'emigrazione per lavoro, quando viene effettuata in massa, configura un vero e proprio genocidio culturale. Mi rifaccio qui ad un'esperienza che ho già sottolineato altre volte, per esempio sul manifesto del 10 maggio 1988, quando fui intervistato su questo problema in relazione ad un comizio che Le Penne aveva tenuto due giorni prima a Roma. E raccontai l'esperienza vissuta a Birmingham, dove eravamo andati noi della Commissione Sanità qualche anno fa. Ricordai che entrammo a Birmingham dalla parte della sua sterminata periferia industriale, trista e grigia come lo sono sempre queste periferie. Ma lì la tristezza era resa ancora più evidente dalle decine di migliaia di donne e di bambini immigrati, figli di immigrati, parenti di immigrati estracomunitari che affollavano quelle povere case e che sciamavano dovunque. Mi chiesi, e anche altri colleghi si chiesero, ma che ci fanno qui queste donne e questi bambini, lontani dalla loro terra, dai loro usi e costumi, dai loro cieli, dal loro clima, lontani da tutto ciò che costituisce il retroterra di un decente vivere comunitario. Quali costi esistenziali pagano queste famiglie? A chi serve, a chi giova, ma a chi la vuole e chi la provoca questa immigrazione di massa? Li trovammo poi, onorevole Martelli, i costi esistenziali. Li trovammo quando andammo a visitare gli ospedali psichiatrici di Birmingham, quando andammo a visitare o ci informammo sulla percentuale dei detenuti stranieri per lo più giovani, quando sappemmo le statistiche tristissime della droga, della prostituzione, delle malattie più gravi che imperversavano appunto tra gli immigrati e le loro famiglie. I costi maggiori li pagavano le famiglie degli immigrati, costi terribilmente alti, costi dolorosi umanamente e socialmente. Il fatto è che la stragrande maggioranza di questi immigrati, se appena appena potesse trovare un lavoro decente nella propria terra tra la sua gente, tornerebbe volentieri nei paesi d'origine a vivere con la propria famiglia. Se non lo fa è perché il terzo mondo e soprattutto l'Africa sono flagellati e devastati dalla miseria, dalla fame, dalle infinite conseguenze negative di quel che susa definire sotto sviluppo e che è poi causato anche dai meccanismi finanziari delle multinazionali. E allora diciamo no ad ogni ulteriore migrazione di massa e dicendo no ci opponiamo allo sradicamento di massa di quelle popolazioni. Dicendo no noi difendiamo anzitutto e soprattutto la loro specificità sociale e culturale e sosteniamo che questo fenomeno, tanto più quando diventa massiccio, ma le cifre le abbiamo indicato e le prospettive statistiche sono sotto i nostri occhi, proprio quando diventa massiccio non risolve i problemi della miseria e dello sviluppo, del sottosviluppo dell'Africa e del terzo mondo e complica terribilmente i nostri problemi. Se questa situazione diventerà quella che minaccia di diventare, e cioè un baratro con milioni e milioni di immigrati, anche noi avremo conseguenze gravissime, senza sperare che i problemi dei paesi d'origine siano risolti dall'emigrazione. Avremo le città bidonbil, avremo i ghetti, avremo fenomeni diffusi di razzismo e di odio etnico, avremo anni e anni di criminalità in aumento e costi esistenziali durissimi sia per la nostra comunità che per le comunità altrui. Non ci saranno né vinti né vincitori, così come non ce ne sono in tutte le città francesi, olandesi, inglesi e tedesche, dove l'afflusso massiccio delle immigrazioni estracomunitarie ha creato problemi giganteschi di degrado, disordini talvolta sanguinuti, situazioni di cronica intellaranza reciproca. Si obietta. Tutto questo è evitabile con la integrazione, è evitabile puntando ad una società che sia integralmente ed autenticamente multiraziale. Ma ci si rende conto allora di che cosa significano queste tesi, di quali conseguenze esse comportano, perché la realtà è questa e non ammette scampo. Si appatoia. Il lavoro di un immigrato è competitivo in termini di costo quando quel lavoratore è privo di diritti, quando quel lavoratore è legittimo, quando quel lavoratore è sfruttato, ma questa è un'ingiustizia terribile dalla quale siamo tutti d'accordo occorre uscire. Ma se per l'immigrato si danno tutti i diritti, come è giusto che accada, allora ecco che il costo della sua prestazione diventa sempre meno competitivo. E se a quel costo aggiungiamo quello altissimo del processo di integrazione nel suo complesso, le case, l'assistenza sanitaria, l'inserimento in scuole che dovranno essere omogenee ai bisogni di tante comunità diverse ed altre cose ancora inevitabili negli anni a venire, ecco che quel lavoro non sarà più competitivo. Ci dicono, noi abbiamo bisogno dell'afflusso, di questo afflusso di lavoratori. Anche l'altro giorno il professor Golino ha scritto su Repubblica che la nostra economia tutta intera ha bisogno di loro. E qui veniamo ad un altro nodo del problema, che si può sintetizzare in una tesi. Ci sono lavori in Italia che si svelano ogni giorno di più indispensabili Purtroppo il suo tempo sta volgendo al termine. Cerco di concludere rapidamente, sono alla fine. Ma che continuano a venire ritribuiti in modo bassissimo e quindi richiamano manodopera straniera. La verità è che noi dovremmo ridisegnare una mappa salariale nuova e diversa prima di scegliere acriticamente la strada del ricorso a milioni di emigrati. Perché altrimenti li sradicheremo dalla loro terra e li sottoutilizzeremo nel nostro paese. Il ministro Conte aveva ragione nella sua logica. Gli immigrati hanno diritto anche alla casa. È giusto. Ma come dar loro una casa se milioni di italiani la cercano in vano e lo attendono da anni? E se dessimo le case agli immigrati allora dove andrebbe a finire la convenienza economica del loro lavoro, la loro competitività con il lavoratore italiano? La verità è che anche in questo campo si segue una vecchia e cinica regola che ha avuto tanta parte nella vita economica e sociale del nostro paese. Che si privatizzano egoisticamente i profitti finché ci sono, i profitti di chi ha ingaggiato e sfrutta ancora l'immigrato e lo paga a sottocosto e si socializzano le perdite. Si scaricano sulla collettività in termini di costi finanziari ma anche civili, di edilizia, di scuola, di sanità, di ordine pubblico, i bien più alti costi che effettivamente comporta un'ondata migratoria di milioni di persone. Bisogna invertire, e concludo, tutto il senso di questa marcia, sbagliata ed ingiusta al tempo stesso. Occorre impegnarsi di più per creare fonti di lavoro stabili nel terzo mondo, perché è soltanto lì, sul posto che si vincerà o si perderà la gigantesca battaglia contro il sottosviluppo. Aiutiamoli a non diventare migranti per fame, per miseria, per disperiazione. Evitiamo di sradicarli dalle loro terre, dalle loro genti, dalle loro tradizioni, dalle loro specificità culturali e sociali. Per questo abbiamo proposto una conferenza internazionale in materia. E quando poi ci si osserva che proprio noi italiani dovremmo capire il problema degli immigrati perché siamo stati terra di emigranti, io rispondo che il problema non si presenta negli stessi termini. Perché l'emigrazione italiana non è stata una festa, è stato un dramma e un tormento. Un dramma e un tormento per i milioni che se ne sono andati e per i milioni di persone che restavano alle loro spalle. Noi tuttavia andavamo fra gente che nonostante le differenze economiche ci era in fondo sostanzialmente affine, in territori spopolati, dove far fortuna sembrava a portata di mano. Venire in Europa non è così, non è la stessa cosa. È infinitamente più duro, più difficile, più frustrante, più pericoloso. È foriero di problemi enormi per noi come per loro. Ma proprio noi che abbiamo conosciuto, specie al Sud, il dramma dell'immigrazione massiccia che ha spopolato e svenato i nostri paesi, che li ha fatti vivere in modo spento, perché abitati solo da donne, dalle vedove bianche di allora, da bambini e da vecchi, proprio noi ci opponiamo a vedere altre popolazioni percorrere massicciamente la stessa strada. Non in nome della razza, ma in nome della nostra esperienza umana, sociale e civile, della nostra storia tormentata dalla quale ci viene una lezione. Ogni sradicamento massiccio di popoli e di genti è qualcosa che si paga duramente, spesso drammaticamente, anche a distanza di decenni e decenni, perché si paga sulla pelle delle generazioni future. grazie a tutti.